Allora, riprendiamo un po' il discorso, stiamo parlando di mercati, per esempio il Qatar, adesso perché ci andate, ma di che cosa avrebbe bisogno il Qatar? Perché effettivamente uno che non è stato lì, che non conosce, dice che cosa vado a proporre lì? Che realtà è? Intanto è una realtà molto diversa da quella alle quali siamo abituati qui noi, sia per un aspetto climatico, ma poi anche per un aspetto proprio, diciamo, dell'assetto della società. Allora, le nostre esperienze in Qatar, ormai noi andiamo minimo una volta all'anno e facciamo sempre l'abbinata Qatar Emirati Arabi o Qatar Kuwait e devo dire, cito un settore che può avere opportunità e sviluppo in Qatar, che è in crisi in Italia, che è il settore dell'edilizia. Allora, il settore dell'edilizia, in tutta la sua componentistica, compreso anche i contratti alberghiero, quindi vuol dire immobili, arredamento e quant'altro, possono avere e hanno buone chance di entrata nel mercato. Tenendo conto di un aspetto, non l'edilizia, quella che costruisce i palazzi che abbiamo qua noi, ma proprio da incontri che abbiamo avuto a Doha, abbiamo avuto la conferma da parte dei costruttori, i Qatarini e non solo loro, che loro ambiscono ad avere le cosiddette finiture del made in Italy. Ecco allora che dai pavimenti ai seramenti, a un certo tipo di lavoro, agli stucchi e quant'altro, la manovalanza italiana, il nostro design, la nostra qualità è apprezzata. E questo può aprire dei scenari nuovi per i nostri imprenditori che altrimenti sarebbero impossibili da pensare qua in Italia. Naturalmente vale il discorso di prima, noi stiamo assistendo a un gruppo di imprese, sono tre imprese che si sono messe assieme. Il settore è sempre edile questo. Sempre il settore edile. Abbiamo già fatto due missioni in Qatar, ci vuole tempo, stiamo cercando di sviluppare i contatti e in questo caso la massa critica però è importante. Ecco quindi ad esempio il caso che stiamo appunto seguendo è un caso di tre imprese che hanno crisi qui in Italia, a Padova in questo caso, e che dicono ci mettiamo insieme. Hanno costituito una nuova società, potrebbero costituire un contratto di rete anche senza arrivare alla società e con noi stiamo cercando di aprire questo nuovo canale in Qatar. Dopodiché tutto il mondo del contrat alberghiero è un mondo assolutamente importante e Padova ha veramente tante imprese che possono dire la loro in questo e questo diciamo è uno spazio decisamente interessante per le nostre imprese. E poi ovviamente tralascio il food, Padova non è che siamo proprio tanto forti rispetto ad altre realtà venete, penso a Verona, a Treviso, a Vicenza, però sicuramente è un terreno sul Qatar che chi ha un certo tipo di food è importante. Anche qua stando attenti di non cadere nel tranello perché se penso al Qatar come per gli Emirati Arabi il vino è una roba molto interessante ma non ovviamente per il consumo locale ma per le triangolazioni che paesi come questi fanno. Infatti anche la bisogna stare molto attenti. No ma un'altra cosa sconvolgente che questi paesi che sono comunque in crescita, in sviluppo eccetera, quando si parla appunto di food per esempio che comunque sarebbe un business molto importante, chi vive in queste realtà dice che alla grande vanno i prodotti, chiamiamo food di scarsissimo livello che vengono dagli Stati Uniti e quindi loro stanno incominciando in massa a nutrirsi di questi burger, queste schifezze qui varie che vogliono dire crescita, sviluppo, essere moderni, essere ricchi, stare bene come vediamo in India per esempio, rovinandosi la salute eccetera, invece che saltare questo step che noi abbiamo attraversato e in parte ce lo stiamo ancora trascinando, loro si immergono in pieno. Noi italiani a volte diamo per scontato che si conosca il cibo italiano, in realtà non è assolutamente così perché non viene diffuso, divulgato nel modo appropriato o comunque non è così penetrato come altro tipo di alimentazione spazzatura che viene ovviamente da sistemi organizzati, multinazionali che sono molto molto forti e penetrativi. Ma qua penso che valga proprio il discorso che facevamo prima, allora le multinazionali, quindi penso al McDonald's piuttosto che ad altre grandi catene americane hanno questa capacità diciamo di imporre il prodotto che invece il nostro diciamo sistema industriale molto frammentato, molto piccolo ha maggiori difficoltà. Lì abbiamo però uno strumento che probabilmente dobbiamo sempre più affinare, penso ad esempio se stiamo nel Golfo, penso a Dubai, solo su Dubai ci sono oltre 100 ristoranti italiani. C'è un progetto nazionale che si chiama ospitalità italiana e dove c'è la valorizzazione di questi ristoranti. Ebbene, questi ristoranti dovrebbero e come peraltro sono il primo veicolo del prodotto made in Italy, ma con esso anche la dieta. Ci sono altri progetti nazionali che si parla di dieta mediterranea, quindi di contrapporre o comunque diciamo di affiancare a questi cibi americani, in questo caso molto grassi e così via, una dieta, un cibo, un gusto del mangiare che è tipicamente mediterraneo, italiano nel nostro caso, che è di grande valore oltre che salutare. Ecco su questo io penso che siamo agli inizi, nel senso che c'è un'azione anche di sistema, uno dei rari casi, in cui dobbiamo favorire l'entrata dei nostri prodotti attraverso questi ambasciatori che sono i nostri ristoranti italiani. È chiaro che devono essere ristoranti italiani e non ristoranti di qualche altra nazionalità con la bandiera italiana. Spacciati per italiani, infatti. E questo è il problema dell'Italia Sounding, che è un problema grosso, dove però qui è il nostro Stato che deve difendere i vari parmesan piuttosto che altri prodotti che non sono italiani ma che mettono il tricolore sulla confezione. Ecco, voi da questo punto di vista come presentate l'azienda italiana all'estero? Cioè come avviene? Quali sono gli step? Allora, una volta che sono passate tutte quelle fasi che parlavamo prima, noi lanciamo l'iniziativa, facciamo quella che abbiamo in corso sul Qatar e quindi invitiamo le imprese di Padova, perché la nostra competenza in questo caso è per Padova, li invitiamo ad aderire. A questo punto compilano un company profile in cui devono, e questo è il primo punto, sembra banale ma è uno degli aspetti più importanti, perché noi diciamo sempre che questa è la carta d'identità dell'impresa, quindi uno deve spiegare bene chi è, cosa fa, ma soprattutto qual è il suo prodotto, ma soprattutto qual è l'utilizzatore finale e chi è, diciamo, il soggetto che lui vuole incontrare. Perché? Perché questa informazione noi la diamo, in questo caso a Doha, e quindi più è completa, più efficace ed efficiente è la ricerca che poi noi facciamo del partner. A questo punto il nostro ufficio in loco cerca i partner per il nostro operatore e gli sciogliamo la riserva, cioè potrebbe accadere che un imprenditore gli diciamo, guarda, non c'è chance per il tuo prodotto e quindi gli diciamo per quanto ci riguarda la nostra preanalisi non è opportuno che tu venga, ci ho detto se l'impresa vuol venire, però chiaramente va bene lo stesso, però noi vogliamo garantire uno standard minimo di incontri. Se invece la nostra preanalisi conferma, allora va bene, a questo punto l'adesione diventa vincolante per l'impresa e si organizzano le agende e appuntamenti. Qui va precisata una cosa, noi non facciamo, tranne rarissimi casi, incontri in albergo. Gli operatori nostri di Padova vanno nel paese, a Doha, e vanno presso l'operatore, operatore di cui nome loro ce l'hanno prima di partire da Padova, hanno l'elenco di tutti coloro che andranno ad incontrare con tanto di indirizzo e questo perché? Per due motivi. Il primo, se io sono un imprenditore di scarpe e vengo via a Doha, è difficile che il vero e importante buyer di scarpe si muovi da casa sua per venire in albergo. Mentre è più facile che venga quello che sembra essere un grande importatore ma viene perché magari gli si offre un caffè. Mentre il fatto di andare… Mi piacerebbe anche questo. Ci sono proprio le due anime. Mentre per il nostro imprenditore, in un colpo d'occhio, andando a casa dell'operatore, guarda quante telefonate ci sono, guarda il movimento in magazzino, guarda quanti personale c'è in ufficio, beh è un colpo solo, riesce ad individuare il livello della persona con la quale sta parlando e questo direi che è un elemento di garanzia per gli appuntamenti perché altrimenti uno che va in albergo lo incontra ma deve poi tornare nuovamente per capire con chi ha avuto a che fare. Infatti avete già fatto delle missioni estere di questo tipo che hanno dato degli esiti, a parte questa in Russia ma comunque in paesi così meno… Direi di sì e per i paesi strani, fra virgolette, a parte che il Golfo ormai siamo abbastanza di casa, devo dire che ha messo in moto un meccanismo di andata e ritorno parecchio interessante e ci sono già parecchi contatti avviati e anche forniture avvenute, soprattutto nel settore del mobile arredamento per i contract. Ma poi abbiamo avuto situazioni anche a Singapore, anche a Singapore con aziende nostre che hanno aperto unità locali presso i nostri uffici a Singapore, quale testa di ponte per il mercato cinese e quindi anche in questo caso, anche qua, mercato cinese che non va visto solo ed esclusivamente come un competitor laddove diciamo ci può inquinare ad essere il nostro grande concorrente. Dobbiamo cercare di capire se in alcuni casi lo è, quale potenziale di sviluppo può avere un mercato di un miliardo e mezzo di persone per i nostri prodotti. Qui però va evidenziato un aspetto, se vogliamo vendere in Cina per esempio, il nostro deve essere un prodotto veramente made in Italy. Non bisogna cadere nella trappola di mettere componentistica cinese per abbassare i costi di produzione. La Ferrari vende in Cina perché è fatta a Maranello, non perché c'è uno stabilimento o componentistica cinese. Allora siccome che per fortuna noi abbiamo questo made in Italy che è apprezzato e il cui valore ci è riconosciuto dobbiamo tenere duro, mi sembra che la trasmissione dica di sopravvivere, beh dobbiamo tenere duro perché quando poi questi mercati daranno soddisfazione beh chi è riuscito a tenere duro il made in Italy poi venderà. Chi ha inquinato il prodotto il cinese è già abituato di suo a copiare quindi non ha bisogno che gli insegniamo noi e non sarà mai il nostro potenziale cliente. C'è un dato che penso sia interessante anche da capire che nel 2020 quindi vuol dire fra qua pochissimi anni c'è un trasferimento della capacità della spesa mondiale quindi vuol dire nuovi consumatori che si sposteranno dall'Europa e dal Nord America quindi Stati Uniti compresi tutti verso l'Asia. Si parla di oltre il 30% della cosiddetta quota di spesa mondiale. I nuovi consumatori, si parla di 500 milioni di nuovi consumatori saranno in quelle aree Tailandia, Indonesia, Cina, Vietnam. Quindi bisogna essere attrattori in qualche modo per riuscire a soddisfare quelle che saranno le future esigenze che emergeranno in tutti i modi e quindi continuare a riuscire a resistere appunto, a sopravvivere per poi agganciare questa ripresa che poi è già in atto in questi paesi indubbiamente. Lì ad esempio non so, la Cina oggi sta viaggiando ad una sola cifra nell'aumento del PIB ma la sola cifra è tra il 7 e l'8% e per loro è poco. Il Brasile cresce, la Tailandia. Ecco anche qua ci sono alcuni paesi che nel nostro immaginario non sono considerati come dei grandi sbocchi di mercato ma se pensiamo alla Tailandia e l'Indonesia che magari noi ne pensiamo solo per le vacanze ma sono paesi da 100 milioni di persone e con grandi capacità di acquisto e stanno crescendo. Ecco su questo direi che se noi ci attrezziamo e cerchiamo di entrare anche in questi mercati adesso i tempi sono quelli giusti, cioè voglio dire non dobbiamo attendere che si consolino. Nel frattempo come dicevo prima la Germania si muove, il Brasile si muove, poi i studi della Banca Mondiale ci confermano che nel 2030 più o meno abbiamo sicuramente il sorpasso della Cina nei confronti degli Stati Uniti come prima potenza economica mondiale. Hai visto quello che sta succedendo? Direi che lì sarà inevitabile. Al terzo posto ci sarà l'India ma con un pochissimo livello di differenza dal secondo posto degli Stati Uniti. I scenari che ci dicono gli studiosi sono questi. Noi dobbiamo cercare di fare di modo, ecco io ho visto quando è che un imprenditore è successo, quando anticipa gli scenari, quando riesce due o tre anni prima, quattro anni prima, di anticipare quelli che possono essere gli scenari dei mercati. È difficile, finora i nostri imprenditori sono stati bravi perché ce l'hanno fatta da soli, nonostante il sistema. Adesso forse qualcosa di più nel sistema c'è ma la sfida è continua. Questo è molto importante, anche l'altra cosa che però comunque l'Italia deve sempre costituire un pollo di attrazione secondo me. per cui questo depauperamento, impoverimento che di fatto si sta attuando non è un bel biglietto da visita per il nostro paese. Questa è una questione estremamente grave che va valutata attentamente perché dovrebbe essere sempre un po' il gioiellino all'Italia, un fattore di attrazione eccetera. Comunque sia dal punto di vista turistico, lì c'è tutta la valorizzazione che non si sta facendo, sia anche per tutto quello che rappresenta l'Italia per poter essere sempre un biglietto da visita di se stessa e quindi è più facile vendere perché come le diceva Tailandia alletta turisticamente perché è sempre stato un po' così, mette lontane che hanno affascinato e continuano ad affascinare. Bisogna che l'Italia resti questo, invece ci si trova con dei concorrenti vicini che la stanno facendo da leoni. La Francia in primis è assurdo però è andato di fatto e quindi è per quello che dopo il prodotto francese è sempre emblematico del lusso, di un certo cosa perché la Francia stessa ti dà queste immagini di sé. Se noi cominciamo a dare all'estero le immagini dei poaracci, anche il prodotto italiano poi alla fine diventa dei poaracci, c'è poco da dire. E invece noi, come giustamente diceva lei, come sistema Italia, io non lo so, a volte noi veramente non ci rendiamo conto, solamente il patrimonio artistico e ambientale che abbiamo. È il primo paese al mondo, ogni angolo di strada, senza andare lontano anche qui a Padova, come può essere Verona, Vicenza, abbiamo veramente dei patrimoni indescrivibili. Non so per dire, qualche tempo fa un americano degli Stati Uniti che è venuto, quando ha visto le mura di cittadella per dire, le ha toccate con le mani perché per lui avere roba poco sopra il 1000, è una roba... Ah beh, ma se sì, per loro sono stravolgenti, fanno vedere le cose del 1890, che sono solo dei reperti, storici straordinari, sono delle cose un po' terrificanti. Noi invece abbiamo di tutto, abbiamo di tutto su questo, sono d'accordo con lei, bisogna che lo Stato, che il sistema veramente valorizzi sempre più, perché quando andiamo all'estero e questa è la cosa bella... Lo sanno valorizzare benissimo tutto, anche i paesi del terzo mondo, un sasso lo sanno valorizzare a 100 e ti fanno fare 200 chilometri per andarlo a vedere, un sasso però all'altra parte, sono bravi. E poi questo diciamo, è la cosa bella che diciamo sempre anche all'estero, nessuno ce lo può portare via, perché questa è la nostra storia... Attenzione che lo vogliono vendere, hanno anche questa fantasia di vendere i gioielli di famiglia. Però almeno dovranno rimanere su questo terreno almeno. L'isoletta in Sardegna, i budelli, anche quello, stanno vendendo pezzi l'Italia. No, questo speriamo almeno che questa qui sia una parte che ci rimane ancora, perché è il grande valore, diciamo, e poi è il contesto sul quale poi vengono prodotti i nostri beni. Anche questo io lo vedo all'estero, è una frase fatta, si dice vendere le emozioni, ma è comunque vero, è comunque vero, perché il fatto che tu venda un prodotto che è stato fatto in un contesto ambientale, quale è quello che abbiamo noi in Italia, è un contesto unico al mondo, città come Venezia sono uniche al mondo, le Dolomiti... No, no, ma è proprio, secondo me è un brand che andrebbe mantenuto, però lì bisogna avere un sistema unitario, quindi è una cosa un po' più complessa, ci vorrebbero anche delle persone capaci, intelligenti a governare questo, non è... Tra capacità, intelligenza e governance sono delle cose che stanno molto scisse. Allora, pubblicità, torniamo tra pochissimo insieme. Grazie. 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 Grazie.